Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Valentina e oggi sono qui per realizzare insieme un astuccio da viaggio per gli acquerelli, l'accessorio perfetto per la vacanza creativa. Si tratta di un progetto semplice, anche se laborioso, adatto anche ai principianti e che permette di imparare e perfezionare diverse tecniche di base. Prima di tutto taglio la stoffa, in info box e sul blog trovi il dettaglio di tutte le parti da tagliare, i materiali che ti occorreranno e gli strumenti che mi vedi utilizzare in questo video. Comincio con l'assemblare il pannello esterno, quello che dobbiamo fare è cucire i tre pannelli principali alla stoffa che ci occorrerà da spessore per contenere tutto il materiale da disegno. Sistemo dritto contro dritto il primo pannello da 20x26 cm e lo spessore da 7 cm allineandolo sul lato lungo di destra. Segno il centimetro di margine sul retro per cucire con maggior precisione ed essere sicura che poi tutto combaci quando andrò ad assemblare le parti e cucio appunto dritto con un filo in tinta. Vado avanti in questo modo aggiungendo sempre sulla destra il secondo pannello da 20x26 cm utilizzando la stessa tecnica. Segno il margine con il gesso colorato aiutandomi con un righello Omnigrid, fisso con gli spigli e cucio. Procedo così fino a che l'esterno dell'astuccio non sarà completo. Avendo scelto una stoffa molto leggera vado a utilizzare un'interfader a termoadesiva di rinforzo. Questa è la Decoville Light. La posiziono con un centimetro di margine sia sopra che sotto e facendo attenzione a restare dentro le cuciture che ho già fatto. La applico con il ferro ai tre pannelli principali facendo molta attenzione ai bordi. Stiro anche a rovescio per essere certa che la colla si sia completamente attivata. Metto da parte e procedo con l'interno dell'astuccio. All'interno avremo tre zone ciascuna con tasche specifiche per contenere il materiale artistico. Parto dal primo pannello a sinistra e vado a realizzare le tasche per contenere la palette e altre utilità. Piego a metà e stiro la piega del quadrato da 22 centimetri. Ci servirà per realizzare una tasca doppia e infatti segno una linea a 9 centimetri e mezzo dal bordo sinistro. Segno anche la metà, circa un centimetro dal bordo superiore della tasca che sarà a destra perché in questa zona andrà a cucire il velcro. Questa tasca conterrà la palette e per non farla scivolare via nel trasporto ho deciso di fermarla con una fettuccia che vado a realizzare con la stessa stoffa. Piego e stiro il rettangolo da 4 per 12 centimetri come mi vedi fare in video, ripiegando i bordi piccoli all'interno e poi ripiegando in quattro parti e poi in due la stoffa. Mi aiuto con il ferro da stiro per fermare le pieghe, fisso con gli spilli e vado a cucire lungo il bordo il più possibile vicino al margine. Se hai una stoffa più leggera della mia puoi aiutarti con un righello resistente al calore che ti aiuterà ad avere orli più precisi. Quando cuci la fettuccia procedi piano e con cautela per ottenere il risultato perfetto. In cima a questa fettuccia vado a cucire anche una delle due parti di un pezzetto di velcro e andrò a sistemare l'altra sul punto della tasca che avevo segnato in precedenza. Intanto ho anche ribattuto la piega della tasca con una cucitura vicino al margine. Sistemo la stoffa della tasca centrata e allineata al bordo inferiore sul pannello e cucio lungo la linea che avevo tracciato. Allineo i bordi laterali a quelli del pannello sottostante e vado a cucire. Dovendo queste tasche contenere materiale con un certo spessore ho pensato di realizzare delle pants in modo che accolgano tutto il materiale con comodo senza segnare o tirarsi. Per vedere nel dettaglio come realizzo le pants guarda il video fino alla fine. Una volta fissate le pants cuci anche il lato inferiore e la tasca è completa. Non resta che fissare la fettuccia con il velcro che terrà la paretta al suo posto durante il trasporto. Nella parte superiore di questo pannello voglio mettere una tasca con elastico che accoglierà i barattolini che uso per l'acqua. Appaio dritto contro dritto i due rettangoli da 9 x 27 cm e vado a cucire sui lati lunghi. Risvolto il stilo per appiattire le cuciture poi vado a praticare una cucitura da un centimetro dal bordo superiore per realizzare una culisse che conterrà l'elastico. Faccio passare i 20 cm di elastico con un ago passanastro. Quando avrò raggiunto il margine della stoffa l'ho fisso da un lato con alcuni punti. tiro l'elastico fino a farlo uscire dalla culisse, lo sistemo bene all'interno in modo che sia allineato alla stoffa, fisso e cucio anche da questa parte in modo che si arricci leggermente la stoffa. Per poter sistemare questa tasca sul pannello dobbiamo andare ad arricciare anche la base e farlo è semplice. Imposto la tensione della macchina al minimo e vado a fare sul fondo della stoffa una cucitura con un punto dritto che sia il più lungo possibile. Non chiudo i punti né in partenza né in chiusura. Una volta fatta la cucitura tengo fermo il filo di sotto e tiro quello di sopra facendo scorrere la stoffa dai due lati in modo da arricciarla e portarla a misura del pannello. Sistemo la tasca e la fisso aggiustando la arricciatura per renderla il più armoniosa possibile. La metto dritto contro dritto verso il basso del pannello e poi cucio a punto dritto. Ora posso tirarla verso l'alto e sistemarla con un colpo di ferro e poi non resta che cucire ai lati perché la tasca sia pronta. Passo adesso al pannello con la tasca per il taccuino. Piego a metà il rettangolo da 32 x 21 cm, stiro e ribatto la piega e poi fisso come prima i lati della tasca allineandoli a quelli del pannello. Anche qui ho un'abbondanza di stoffa che mi occorre per contenere lo spessore del blocco, quindi faccio le pence e poi cucio anche il lato inferiore. Per ultimo abbiamo il pannello con la tasca portapennelli. Come prima piego, stiro e ribatto il margine alto della tasca. Qui ho deciso di mettere delle taschine per contenere i pennelli più piccoli e delle tasche più ampie per i pennelli con il manico grosso o per altri attrezzi. Segno una linea a 5,5 cm dal bordo sinistro e poi 6 linee a 1,5 cm l'una dall'altra. Centro la stoffa della tasca sul pannello allineandola al bordo inferiore e vado a cucire con un punto dritto lungo le linee che ho segnato. Allino i lati a quelli del pannello, li fisso e vado a cucirli e anche qui mi occupo dell'abbondanza realizzando delle pence. aiutandomi con il ferro vado a ripiegare la stoffa in eccesso in modo da portarla a misura della stoffa sottostante. Fisso le pieghe realizzate con uno spillo e poi vado a cucire anche il bordo inferiore. Sistemata anche questa tasca possiamo occuparci delle rifiniture. Vado ad appaiare i trapezzi che mi occorrono per le alette superiori dritto contro dritto stoffa esterna contro fodera. Io ho usato il bordo di un bicchiere per stondare gli angoli superiori. Cucio lasciando aperto il lato inferiore e vado a rifinire e ridurre l'orlo con le forbici. pratico dei taglietti lungo le curve in questo modo risvoltando il lavoro non avrò eccessi di stoffa. Risvolto stiro le cuciture e vado a ribattere per fissare la fodera alla stoffa esterna. Procedo così per tutte e tre le alette. Mi occupo poi del tovagliolo che userò per asciugare e pulire i pennelli. Ho tagliato due quadrati, uno dalla stoffa esterna e uno di spugna e vado a unirli dritto contro dritto. Fisso con gli spilli e cucio lasciando aperta una fessura per risvoltare il lavoro. Taglio gli angoli, risvolto aiutandomi con uno spingiangoli, stiro le cuciture e le ribatto a pochi millimetri dal bordo in modo da chiudere anche la fessura che era rimasta aperta. Non resta che assemblare l'interno dell'assuccio proprio come abbiamo fatto con l'esterno, unendo quindi i pannelli agli spessori con cuciture sul retro. Dovrai avere il pannello per la paletta a sinistra, seguito dallo spessore di 5 cm, poi il pannello dedicato al taccuino e lo spessore da 2,5 cm. Infine il pannello con le tasche portapennelli. Appiattisci bene le cuciture sia sul retro che sul davanti con il ferro e poi fissa il nastro che servirà per la chiusura sul pannello dedicato ai pennelli. Piega il nastro a metà, sistemalo rivolto verso l'interno dell'astuccio e bloccalo con uno spillo. È il momento di unire le due parti principali dell'astuccio. Andiamo ad appoggiare, dritto contro dritto, l'esterno sull'interno, avendo cura di allineare bene cuciture e spessori. Andiamo a cucire restando sul margine esterno dell'interfodera e lasciando completamente aperto il lato superiore. Risvolta il lavoro delicatamente e aiutati con uno spingiangoli per avere un risultato perfetto. Allinea bene i pannelli, ripiega e stira il margine superiore verso l'interno. Non resta che inserire le alette protettive allineandole e fissandole ai tre pannelli principali e cucire il margine superiore restando a qualche millimetro dal bordo. Ribatti anche gli altri tre lato. dell'astuccio con una cucitura che fisserà l'esterno alla fodera più saldamente. L'astuccio è pronto ad accogliere tutto il mio materiale di viaggio e ad accompagnarmi in giro per il mondo. Se questo progetto ti è piaciuto lasciami un like e un commento e se non vuoi perderti i prossimi progetti creativi e le prossime ricette ricordati di iscriverti al canale. Ci vediamo presto al prossimo video. Buone vacanze!